I corridori, eccole arrivare, una grandissima volata di gruppo, c'è sempre il team Colpa che la Zalpa davanti, davanti, la Zalpa, ci sembra Simeone, ci sembra, no? E vince ancora Nicola Ruffoni, il bis per il corridore del team Colpa Nicola Ruffoni che ha vinto ieri la tappa che è arrivata Nicola l'abbiamo detto anche stamattina, oggi c'era l'occasione di tenere la maglia e fare uno straordinario bis Ma sicuramente si era detto che si poteva vincere questa tappa insomma questa è la dimostrazione veramente di una superiorità agli ultimi 200 metri impressionanti è un momento buono per me, ho la squadra che devo dire grazie a loro perché sono loro che mi fanno vincere le corse perché oggi hanno tirato tutto il giorno, fuga e controfuga sono state chiuse da loro e un grazie alla squadra Una grandissima volata di gruppo, c'è sempre il team Colpa che la Zalpa davanti, davanti, la Zalpa ci sembra Simeone, ci sembra, no? Simeone, ci sembra, no?